Crescono invertendo un trend decennale che sembrava consolidato le morti per overdose. Nel 2017, complice verosimilmente l'impennata nei consumi di eroina, tornano a segnare un sensibile aumento, più 9,7%. 138 fino ai primi di novembre 2018, dati raccolti da GeoVerdose, il progetto della società italiana Tossicodipendenze. Sono tre anni che questa cifra aumenta ed aumenterà ancora. E' quanto riportato nell'ultimo report della Direzione Centrale Servizi Antidroga e il capoluogo Lombardo è in cima a questa poco edificante classifica. La vittima numero 134 era accasciata qualche giorno fa in un bagno della stazione centrale a Milano, morto per overdose di eroina. Al centro e al nord Italia gli albanesi riforniscono di continuo le piazze di spaccio di eroina, gestite soprattutto da marocchini. E' quel che accade a Rogoredo, uno dei più vasti supermarket d'eroina d'Italia, dove negli ultimi mesi carabinieri di Milano e Monza hanno tagliato due canali di fornitura albanese. Le Nazioni Unite stimano che nel 2016 la produzione globale di opio sia aumentata di oltre 30%, toccando 6.500 tonnellate, da cui sarebbero ricavate circa 450 tonnellate di eroina. Una superproduzione soprattutto in Afghanistan, che incombe sui mercati europei. Il primo paese di transito è l'Iran. L'esperto italiano per la sicurezza a Teheran ha comunicato che nel solo primo semestre 2017 nella Repubblica Islamica sono stati sequestrati 7.500 kg di eroina e 8.000 di morfina. Tagliata ed immessa sul mercato, il valore della droga si triplica. Il gota dei trafficanti turchi rifornisce gli albanesi sulla rotta balcanica, ma allo stesso tempo li aggira via mare. Poi ci sono le droghe cosiddette più leggere, ma neanche tanto. Di oggi la notizia è che a Bucinasco c'era un gruppo specializzato nello spaccio di marijuana e cocaina. E nell'ultima operazione della squadra mobile di Milano, quella denominata Miracolo, che ha scoperchiato i traffici di stupefacenti in zona San Siro e portato all'arresto di 18 persone, c'è finito anche il gruppo di Bucinasco, che ha avuto un ruolo determinante, almeno nella svolta delle indagini, e per aiutare gli inquirenti a comprendere il quadro, la rete, i fili che univano gli spacciatori di Milano all'Interland.